L'amministrazione comunale di Pescara corre ai ripari in merito al problema parcheggio in centro a causa dei lavori di bonifica bellica sull'area di risulta. Vecchie nuove aree di sosta, viabilità modificata e ZTL sospesi nei weekend per far fronte a una problematica ben nota già dall'apertura dei cantieri per la realizzazione in questo primo lotto di un parco e di un parcheggio multipiano nella zona sud. Tuttavia se si sono dovuti aspettare 37 anni per dar seguito a un progetto di riqualificazione di quell'area avrà dovuto attendere qualche mese per individuare le giuste soluzioni e al netto delle giustificate proteste dei commercianti ne deve essere valsa la pena o almeno si spera. Ecco allora come il volto della città cambierà almeno per quel che riguarda i parcheggi. Viene introdotto il senso unico sull'ultimo tratto di via Ferrari in direzione nord-sud e sul primo tratto di via Bassani-Pavone in direzione sud-nord e si recuperano così 106 posti auto nuovi. Altri 58 posti sono stati già recuperati nell'area di risulta nel terminal bus in via Michelangelo e Corso Vittorio Emanuele in corrispondenza dell'area verde dove c'è il terminal si recuperano 31 posti auto ulteriori. Tutti questi posti auto avranno la stessa tariffa dell'area di risulta e ci sarà la possibilità di utilizzare gli abbonamenti che oggi si usano nell'area di risulta. A queste aree si aggiungono altri posti auto e una nuova tariffazione in via Passo Lanciano e piazza Mancini. La tariffazione sarà la stessa dell'area di risulta. Ci sono 200 posti auto. Rispetto ai 350 posti auto annunciati nei giorni scorsi un ulteriore sforzo si supera addirittura i 400 posti. Sì noi avevamo detto che avremmo lavorato per individuare ulteriori posti attorno all'area di risulta da mettere a disposizione dei cittadini che avessero l'abbonamento nell'area di risulta oppure che volessero andare in un'area con la stessa tariffazione dell'area di risulta. Abbiamo individuato fra posti nuovi e posti per i quali abbiamo modificato la tariffazione circa 400 posti e credo che ne individueremo altri nel corso dei prossimi giorni. Lo avevamo detto ai cittadini ci abbiamo lavorato il dirigente dei lavori pubblici con tutta la sua squadra è stato impegnato per circa 15 giorni per trovare delle soluzioni che sono state trovate e che comporteranno anche una modifica della viabilità in via Bassani Pavoni e in via Enzo Ferrari perché è necessario ricavare posti in quella zona e quindi questa modifica della viabilità ci permetterà di recuperare molti posti macchina. Era un impegno che avevamo preso e volevamo mantenerlo tenendo conto del fatto che sull'area di risulta stiamo facendo un intervento storico perché si attende da 37 anni la bonifica bellica ambientale per cominciare i lavori necessari a creare il grande parco in quell'area e a creare i parcheggi necessari per le persone che arriveranno al centro della città. Lo stiamo facendo, siamo molto contenti e soddisfatti anche perché l'esito delle elezioni ha detto chiaramente che i cittadini di Pescara volevano quell'intervento, noi lo stiamo facendo e lo completeremo.